Ciao a tutti! Io sono Tommaso. Io sono il Papino. Oggi siamo su FRIV. Tu anche lo sei FRIV? Poi abbiamo messo FRIV, è una piattaforma di giochi, ce ne sono tantissimi, molto divertenti. Mini giochi, sono mini giochi. Ed è gratis, però volevo prima dire una cosa, devo ringraziare Gino, mio compagno di classe, che ci ha fatto scoprire questa piattaforma di gioco. Grazie Gino, ciao! Allora iniziamo subito. Dovete cliccare il primo risultato, vi compare questa schermata qui, come potete vedere quale è lento dei giochi. C'è tipo uno finto, guardiamo un attimo prima di iniziare. Sì, guardate, c'è calcio, basket, uno finto, è bello questo. Poi c'è il chess che sarà il scacchio, gli scacchi. Ci sono anche i simulatori. Creare la pizza, tipo. Sì, il risultatore. Allora, scusa un attimo Tommi. Allora, proviamo subito. Lanciare l'amburro. Rigori, basket e trattore. Rigori, iniziamo dai. Iniziamo dai rigori. Allora. Penalti? Penalti challenge. Ok. Peccato che non c'è l'Italia, perché non ci siamo qualificati. No, non credo che sarà per questo. E non è di Qatar 2022 questo mondiale, eh? Eh, non lo so. Beh, però a proposito di Qatar 2022, scusa, facciamo con la squadra campionessa, ovvero l'Argentina. Vai con l'Argentina. Se non ti va bene, facciamo la Francia. Allora, contro l'Egitto. E dai! Che spettano le piramidi questi davanti. Allora, dobbiamo praticamente, eh, con il mouse, tenerebbe muto e dare la direzione. Non esagerate né troppo forte né troppo di lato, perché va facilmente fuori. Facciamo una cosa, te tira e io paro, ok? Te tiri. No! Io invece paro. No! Io invece paro, te devi fai gol. Non mi piaceva riparare. Comunque vabbè, vai. Tira! 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 No! Allora, mi devo concentrare... Attento, papà, non colpillo... Grande! Papino! Vai, Tommy, concentrati. Vai, vai, vai! Maledetto! All'incorcio dei pali? Oh, proprio. Vai! No, proprio, l'ho spiazzato. Centrale. Due a due. Tommy, para. Tommy, para! Ti prego. Sìììììì! Grande Tommy che ha parato! Adesso? Siamo in partita. dai tira che posso andare in vantaggio gol spiazzato Argentina adesso Tommaso ha in mano la partita e ce la fa grande se segna se segna e Papino vince gol grande l'Argentina passa oh oh Tommy è inutile non è importanza parola si vabbè Egitto ciao mi dispiace allora adesso vogliamo provare il basket dai eccolo ok dai ragazzi basket io faccio basket con i sport si allora dai su su allora inizialmente dovete calcolare la parabola Italia c'è una nuova zelanta no tranquillo c'è l'aiuto poi l'aiuto diminuisce sempre di più ok ok Italia e Tunisia ok allora vai Papino vedete questa azzurra l'aiuto voi con il mouse senza cliccare fate così poi l'aiuto scompare gol gol legare dai sono abituato ai ricori Tunisia vai 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 facciamo una felpata si tu è zero Tunisia mi dispiace Tunisia no è già felpato vai si tre Tunisia sbaglia no adesso abbiamo già vinto oh è senza aiuto abbiamo già vinto sì vabbè ma quattro ciao ciao Tunisia Tunisia è inutile che ti dai voglio provare prova no vai eh lì se lo colpivi poco poco più in basso sì 4-0 vediamo il trattore Tommy trattore come il trattore sì quando sta c'è di space ma bocchie dove hai il trattore Tommy c'è il parking con il caffeggio dopo 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 dove è quello del trattore sarà un bocchettino più giù qua è grande più brutto che brutto e se c'è il signor Pippo che è scatenatissimo qua ragazzi allora ok trattore andiamo avanti a livello 2 perché abbiamo fatto una prova allora dobbiamo prendere i cocomi allora che sono ste i pepecini piccanti i pepecini ma perché avevamo fatto una prova quindi questo è livello 2 però tanto non cambiamo vado no 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 Pippo Pippo non devi consigliare lì a Giovanni bene non devi niente oh no vabbè inutile che continuiamo oh mai oh mai perché entro una stella c'avrei un ma che ho combinato ma dai prima eri più bravo Tomi il peperoncino è stato e mangiati troppo no da schifo totale allora scusate un attimo tecnica vai 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 no 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 piano adesso tecnica no no vabbè vai vai massima velocità vabbè dai da schifo ormai le ha perse tutte massima velocità ma se ci schiantiamo con Pippo guarda vai Pippo voglio arrivare così in impennata facciamo un altro gioco dai raga ma non puoi allora Tomi ma glielo dici che sono stato bravo quando l'abbiamo provato altre volte fai un altro gioco allora esci esci allora quello delle macchine la schermata bonus tipo allora 18 quel del camion il 18 su su allora questo è complicatissimo ragazzi poi c'è un altro molto carino che andremo a fare e poi e poi facciamo tipo un ultimo gioco e direi basta dai questo un altro e basta questo un altro un altro play si va bene vai next è uno perché ancora qua ma anche il primo livello sono riuscito a far passare oh allora non si abbinare non sa guidare guidalo tu il camion ma ci voglio vado il gioco non cadere il burrone però no non rischiare no io rischio ci vuole non rischiare ha spiegato dove devo andare di qua no hai perso i panini quanti hanno pesi dei barilli hai perso dei panini 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 piano 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 tommy chi si è bloccato come è la situazione come è la situazione ti si è bloccato eh si si è bloccato un po' ma io sono 18 putemotrici vai nooo nooo non staccarti non staccarti no non staccarti vai sembra facile di gioco però è difficile eh eh si perché qua vedete perdi i barilli perdi oh 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 non posso essere dalla parte di là forse dove passare ormai vedi ma la parte libera è di là forse se non mi stai sbagliando qualcosa io giro di qua adesso ce lo fai a salire? no 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 cosa devi fare? da lì ecco da dove ma da lì Tommy no ma non può essere lì si può essere dove dove andare? scusa ma lasciate di qua ah ma aspetta girati no 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 girati dove? questo l'avevo vista guarda quella visuale dove? no no lì dietro niente vado in teoria dove è nera dovresti andare ok vado ma non devi andare di là no vado di qua ma io non c'è di nera e lì si blocca però però lì scendo però lì scendo no vado di là devo andare allora con i tiri quando si va la tetromarcia sogna fare bisogna girare vuoto al contrario dai su che mi devo andare a fare la doccia che sono puzzolente che ho guidato da non so quanto proprio per tutti questi barili rugginiti dai 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 c'è vaga ma guardate che sono bravo guardate che guida felpata ma esistono felpe così? sì no tutte nooo ho perso il casello ok perso scusate ma dove si ci andava di là forse come fa vedi c'è una parte è stata nera una curva tipo vabbè ascolta aspetta c'era un altro bello quale c'era quello della ehm sì climb non è questo quello dei gelatai lo so vediamo torniamo indietro no era lì era lì era la schermata lì papà era la schermata di prima sì ma qua non c'è quello dei gelatai era qui l'ultima volta non c'è vogliamo questo qui in motocross che è simile ah fai il moto ah ma alla fine sono quasi uguali soltanto che queste moto sì sì oh dovemmo poi quello dei granciamburger era simpatico sì lo facciamo e poi forse basta che è sta roba cliccate il pulsante su Minecraft c'era Minecraft sì vabbè play vai next pattati bene pattati bene allora vado eh vai con la vespetta vai vai gigio vai gigino vai adesso voi in volo vi dovete mettere vedete vedete dovete atterrare precisi ok cioè quando siete in volo dovete fare la copazia dovete spostare il peso ecco non come ho fatto io adesso così così dovete calibrarlo ho messo qua con la moto davanti ma no no pare che sei più avanti sì infatti è un barallo le diranno molto il mio barallo ma scusa non fai ah no anche qua prendi le monete forse grande sì però le monete ti aiutano poi ad andare avanti forse è per quello magari poi ti danno meno punti no guarda che felpata che ho fatto vai ok no ma sei ultimo tipo così ho capito stavo andando benissimo stavo andando ultimo vai gigino vai vai gigio vai gigio vai vai supera la pimpa la pimpa supera papino è primo attenzione no il papino sta perdendo l'ultimo sì 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 vai no secondo perché sono scassati tutti mamma mia allora esci esci bello però dai facciamo un'altra cosa sì vai nella schermata proprio iniziali iniziale ma qua non si può sì 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 si si ah no quale scherzo allora lancia hamburger dai sì di quello della giamburgher e salutiamo allora c'è anche happy class c'è anche però guarda aspetta ma la giambica non mi ha cliccato potevamo provare anche uno uno c'era uno tipo si chiama quattro color for color sì allora ragazzi questo qua sembra un gioco scemo ma in realtà è divertente è bellissimo dovete fare l'hamburger prima una volta sola mettere gli ingredienti giusti perché poi dopo lo dovete lanciare più altrimenti possibile e attenzione la salsa è la cosa più importante dovete bilanciare perfettamente il panino e la salsa è la cosa più importante oh che percentuale ho fatto 94 dai però ma questa è la cosa più importante sembra la cosa più inutile però è la più importante in realtà vai 78 78% di maionese è importantissima nel gioco ma fidate 82% benissimo è la più importante la maionese ok vai adesso ok con la maionese puoi saltare e andare più lontano possibile oh dai guarda dai ok ok no Jimmy ma Jimmy mi sei affermato l'hamburger davanti Jimmy ah eh no ha un attimo davanti Jimmy oh un attimo sì dai un altro tiro e poi proviamo uno e poi basta in caso max max proprio max oh mio dio aspetta oh ho aggiungato quello con il panino guarda alto e non me lo spazio no togliti andiano non me lo fermate vai 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 hai preso il teschio e quindi aspetta clicca sull'hamburger per lanciare il teschio e perché? si è spaccato il teschio no pocherino va bene l'ultima ragazzi e poi uno dai no uno no dai dai uno basta arancione buono però dai arancione il trucco è andare più alto e poi quando perdi tutta la maionese così è una grande no gioco mazzi qua mi ha fermato il coso va bene dai ma uno vabbè dobbiamo uno ma uno è lungo e quanto for color proviamo questo e basta si in caso se si allunga troppo usciamo e basta il video perché diciamo dal gioco perché vediamo for color e poi basta selezioni il numero di giocatori due ok ok si va bene come uno soltanto che non poteva usare il nome io no uuuu quale mazzo ok tocca a te tipo no fallo saltare perché fai quello sto cambia giro tocca a te e più due e adesso tocca a te pesca ok lancia se vuoi allora metti quella verde perché è verde sicuro questo numero ah già è vero giro no 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 pesca si per forza e chi è sta roba adesso il colore rosso pesco allora si no ci ha bloccato questo no no si e il 6 ah ma abbiamo visto di giocatori poteva mettere 4 giocatori che ci ispiravamo tutti va bene 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 dico che c'erano 4 giocatori che ispiravamo tutti ci ha fatto più 4 questo no dai più 4 non lo accetto più 2 no vabbè ciao vengo ma ma io non lo so salutiamo papà con questa brutta sconfitta c'è rimasto male ma c'era il toro ma il toro non l'ho capito come si gioca scusate un attimo ragazzi un cal cresce un cal cresce e vi saluto tanto veloce è un classico tanto un minuto dura ma si viene qua è un classico devo battere il mio ego devo forza 5 56 punto 8 ma perché questi mi passano poi non c'è da niente vai guardate guardate che curva felpata dai tommy che guida che classe che eleganza ho questa cupa ancora non ho capito bene come poterla fare qua c'è la signora Pina no quale signora Giovanni con il camion allora che c'è lì sotto? è la signora Giovanna? eh si 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 vai 9 8 7 57 punto 7 è un record no il record della 56 punto 8 vabbè pure ci c'è la tua è perché si sembra la signora Pina messa lì va bene ragazzi allora eh siamo raggiunti a termine i giochi sono toppi per provarli tutti quanti in un'unica puntata magari se vi piacerà let's play ne faremo un altro aspettate aspettate devo dirvi una cosa prima di finire volevo ancora ringraziare Gino ciao Gino grazie ciao ragazzi mi raccomando mettete mi piace seguite il video perché altrimenti non sappiamo se dobbiamo like iscrivetevi perché magari faremo tanti altri giochi divertenti perché sono molto divertenti eh eh sì ciao 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 ciao